Buone notizie per il parco urbano a Fano. Oggi è stato giudicato l'appalto a una ditta del Lazio per la realizzazione di due lotti che potrebbero essere terminati entro la fine dell'anno. In questi giorni sono in corso da parte dei dirigenti comunali le verifiche dei requisiti richiesti nella gara. Una volta completati, la ditta a metà marzo avvierà il cantiere. Procediamo spediti, ha commentato l'assessore Tonelli, al fine di completare questo ambizioso progetto che vede restituire alla città di Fano uno spazio aperto, verde e inclusivo. Gli uffici sono al lavoro, ha detto, anche per la rigenerazione della piazzetta del centro commerciale del Vallato. L'assessore Mascarin ha parlato invece delle fasi iniziali. La prima volta che ho raccolto le firme per richiedere che fosse realizzato un parco nell'area dell'ex campo d'aviazione, ha ricordato Mascarin, avevo 17 anni e ero studente a liceo Nolfi. A spiegarmi le ragioni e la bontà di quel progetto ha proseguito fu un insegnante, il professor Luciano Polverari. Sono passati 25 anni da allora. Oggi, finalmente, quel progetto sta diventando realtà. Assessore, oggi un altro passo avanti per il Parco Urbano? Sì, un passo in avanti non solo importante, probabilmente determinante perché c'è stata l'aggiudicazione dei lavori del secondo e terzo lotto del primo straccio del Parco Urbano alla ditta GEB Infrastrutture SRL di Viterbo per un importo molto importante, stiamo parlando di 500 mila Euro e sarà un intervento che consentirà di realizzare la parte più importante del progetto del nuovo Parco Urbano Luciano Polverari e precisamente la parte che sostanzialmente lungo via della Colonna abbraccia l'intero quartiere di Vallato. Ci sarà una ciclovia, ci sarà un'area importante per la socialità, ci saranno molte isole con panchine e sedute, ci saranno piantumature e ci sarà sostanzialmente un parco che finalmente prende forma aggiungendosi a quel primo annuncio di parco che è stata la realizzazione dell'area giochi per i bambini vicino all'asilo Girasole. Quindi un passaggio veramente molto importante perché il parco finalmente inizia a prendere forma come tale e soprattutto diventa uno spazio di socialità a disposizione della nostra comunità.